Buona giornata amici di Gizia TV. Il Global Teacher Prize è arrivato alla terza edizione. Quest'anno il premio di un milione di dollari è stato assegnato a Dubai ad una docente d'arte inglese. Alla premiazione ha partecipato per l'Italia Lorella Karimali, ambasciatrice nel mondo per la didattica della matematica. Sentiamo Valentina Foschi che ha seguito l'evento. Sì, esatto, buongiorno. Abbiamo avuto l'opportunità di partecipare al Global Education and Skills Forum 2018 che si è svolto a Dubai e all'interno del quale si è anche tenuta la premiazione del Global Teacher Prize, ovvero il Nobel dell'insegnamento istituito dalla Varki Foundation. Dobbiamo dire che è stata veramente un'esperienza unica perché in tre giorni si sono riuniti più di duemila tra docenti, insegnanti, esperti, professionisti del settore, del mondo della formazione e dell'educazione in un unico luogo. Sono stati tre giorni di confronto, di scambio di idee, di opinioni. Siamo entrati in contatto con metodi didattici differenti. Abbiamo avuto modo di confrontarci, di progettare, di pensare a una nuova didattica e questa esperienza multiculturale diciamo così non capita tutti i giorni ed è stato sicuramente uno dei punti più importanti di questi tre giorni. Appunto come dicevo prima è stato consegnato il Nobel all'insegnamento che è stato dato, mi perdonerete per la pronuncia, ad Andrea Zafirakou che è una docente d'arte inglese che lavora in una scuola brente, un subborgo molto difficile a nord ovest di Londra e lei è stata scelta tra oltre 30.000 candidature insegnanti appunto provenienti da tutto il mondo e nel suo discorso dopo essere stato consegnato il Nobel ha affermato che quello che serve è far capire che non importa la situazione di partenza da cui si proviene, una volta dentro la scuola le opportunità sono per tutti. A Dubai ricordiamo che non è mancata la rappresentanza italiana perché come ricorderete tra i finalisti di questo prestigiosissimo premio c'è stata anche Lorella Carimali c'era anche Lorella Carimali, insegnante di matematica al liceo scientifico Vittorio Vento di Milano e abbiamo avuto modo di poterla intervistare di ritorno a Dubai e poter sentire le sue impressioni e il suo pensiero circa questi tre giorni molto intensi. Sentiamo cosa ci ha raccontato. È stata un'esperienza bellissima, quattro giorni intensi, due condivisi insieme agli altri 50 e ai migliori degli anni precedenti. Abbiamo potuto scambiarci metodologie, innovazione ma soprattutto la cosa che ho più respirato è il voler far cambiare le cose. Cioè quando si dice che la scuola, gli studenti e gli insegnanti possono cambiare le cose, possono creare un mondo di pace e io in questi giorni l'ho proprio vissuto insieme agli altri ambassadori e questa è sicuramente la cosa che mi porterò a casa insieme a tutti i contatti e ai progetti che potremo fare in comune. Ad esempio pensavo di aiutare il collega Berga con un kit che ha ideato lui riesce a fare scuola nei campi profughi del Kenya gli servono insegnanti e in questo caso anche l'insegnante di matematica va benissimo. Poi ci sono stati due giorni del summit vero e proprio dove ho potuto assistere a lezioni incredibili ad esempio quella di Al Gore sui mutamenti climatici e molti altri. Quindi io mi porto proprio a casa che la scuola e gli insegnanti possono cambiare il mondo e per un mondo di pace. Grazie a tutti.